Buonasera amici appassionati di calcio a otto e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra ventiduesima di questa serie A Lega Calcio a otto si affrontano la ragnatela pub e il pizza boom ed inizia il match primo possesso per il pizza boom calcio d'angolo per il pizza boom neanche a dirlo Daniele Rossi sul punto di battuta pallone scodellato al centro la conclusione e c'è il gol del vantaggio per il pizza boom ha segnato cavaniglia con un interno destro pregevole un pallone morbido che si è andato a depositare sul secondo palo non c'è potuto arrivare in nessun modo l'estremo difensore della ragnatela pub attenzione il gol di Morezzi un destro dalla lunghissima distanza giro un euro gol del numero 10 Morezzi ha lasciato partire un interno destro dalla lunga distanza su cui non ha potuto fare davvero nulla Merciaro attenzione nuovo tocco sotto Melchiorre non arriva per un non nulla niente di fatto quindi attenzione ora il attacco splendida l'azione del pizza boom un miracolo miracolo del portiere della ragnatela pub attenzione mamma mia che cosa stava per fare cavaniglia attenzione palla dentro esce male ripani cucchiaio che gol che gol per il pizza boom quello del 2 a 1 una gemma una vera e propria gemma il gol del vantaggio degli uomini in giallo rosso un tiro a giro impossibile una traiettoria impossibile da replicare autore del gol è il numero 8 tiberi Morezzi cerca lo spazio per inventare appoggio per il compagno di squadra si tratta del numero 5 ancora placido che stavolta è dall'altra parte placido prova a ritagliarsi lo spazio per la conclusione Morezzi la traversa traversa del ragnatela pub Morezzi in semi rovesciata da un paio di metri sta per riprendere il match Morezzi sembra essere intenzionato a calciare direttamente in rete lo prova una calma olimpica per i bianconeri ma il pizza boom di stasera assolutamente frenetico Daniele Rossi con una girata praticamente da per terra è riuscito comunque a trovare una coordinazione incredibile tante le occasioni da una parte e dall'altra ne ricordiamo almeno due per parte con le due traverse del pizza boom e poi la traversa di Morezzi ora attenzione il tocco sotto e c'è il gol ancora cavaniglia il numero 7 scatenato questa sera si riprendiamo la linea dalla stella azzurra 3 a 1 del pizza boom un tocco d'esterno sotto del numero 7 cavaniglia che ha beffato per la terza volta ripani una da una situazione molto complicata erano in tre gli uomini del pizza boom alti rimasti alti a pressare ora cavaniglia cavaniglia palla dentro per latini splendido il corridoio trovato da cavaniglia per il numero 6 del pizza boom latini che quindi sigla il quarto gol della formazione giallo rosso di giallo rosso è partita che a questo punto ci sembra in cassaforte ormai siamo agli sgoccioli di questo secondo tempo partita che si avvia alla fine finisce proprio in questo momento alla stella azzurra pizza boom batte ragnatela pub per 4 a 1 scambi di vedute la partita è terminata c'è un rosso rosso pene da sterbini a gioco fermo però la partita è già finita è una vittoria che finalmente ci voleva cercavamo da tanto tempo contro una grande squadra ragnatela finalmente abbiamo fatto un po gruppo alberto ce l'ha chiesto presidente finalmente una bella vittoria sul campo abbiamo sfiorato il gol e dieci volte loro il primo tiro è un gol però alla fine sfiorando sfiorando il gol alla fine sono venuti ma c'è stato c'è stata tutta la squadra che ha giocato a grandissimi livelli ma devo fare i complimenti a cavaniglia diego che ha fatto una partita come poche lo viste giocare da un giocatore